Benvenuti al TG2000, timidi spiragli sul fronte diplomatico, anche se le parti in lotta continuano a mantenere alti toni e l'aggressione russa prosegue a margine del nuovo round di negoziati tra Russia e Ucraina in corso online. Il consigliere del premier ucraino Zelensky fa sapere che la posizione di Mosca sembra più costruttiva di quanto non fosse in precedenza. E si sta svolgendo in un hotel a Roma il vertice USA-Cina tra il consigliere alla sicurezza nazionale americano Jack Sullivan e il capo della diplomazia del partito comunista cinese Yang Jiechi. Il faccio a faccio è in corso e si discute dell'impatto della guerra della Russia contro l'Ucraina sulla sicurezza regionale e globale. L'obiettivo degli Stati Uniti è di spingere Pechino a far pressing su Mosca sulla crisi ucraina. È un incontro storico, ha commentato il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Continuano intanto i combattimenti in quasi tutte le città dell'Ucraina, strette da serio dall'esercito russo. Mariupol è forse la più provata, è un vero martirio, devastata. La città da giorni è assediata dai russi e ci sarebbero ormai migliaia di civili morti. Rientriamo in Italia. La luce dell'aumento del prezzo del gas, energie elettriche e carburanti, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. Si tratta di un procedimento al momento contro i gnoti, senza indagati e senza ipotesi di reato. L'indagine è volta a verificare le ragioni di tale aumento e di individuare eventuali irresponsabili, spiega la Procura. Nei giorni scorsi il ministro per la transizione ecologica Cingolani, in merito all'aumento dei prezzi, aveva parlato di colossale truffa. Contagi in aumento, ricoveri in diminuzione. Questa è la situazione Covid in Italia. Gli esperti invitano a non abbassare la guardia. Nelle ultime 24 ore in Italia l'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti con Covid è stabile al 5%, mentre esattamente un anno fa vedeva un trend giornaliero in crescita arrivando a quota 33%. È ferma invece al 13% l'occupazione dei posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica, che un anno fa in questi tempi continuava ancora a salire ed era quasi il triplo, toccava il 37%. Nascite e matrimoni, segnali di ripresa ma non di recupero, a dirlo i dati Istat. La dinamica demografica del 2021 continua a essere negativa. Al 31 dicembre la popolazione residente è inferiore di circa 253 mila unità rispetto all'inizio dell'anno. Nei due anni di pandemia il calo di popolazione è stato di quasi 616 mila unità, soprattutto per effetto del saldo naturale Le nascite sono ancora in calo nei primi dieci mesi dell'anno ma si osservano segnali di ripresa negli ultimi due mesi. Divo timido e seducente, interprete versatile e camaleontico, William Hart è morto una settimana prima del suo 72esimo compleanno. Serenamente in famiglia per cause naturali ha annunciato uno dei figli. Premio Oscar per il bacio della donna ragno nell'86, era stato candidato di nuovo alla statuetta nell'87 per figli di un dio minore e nell'88 per dentro la notizia. È tutto per questa edizione, prossimo appuntamento con il TG2000 alle 18.30. Buon proseguimento di giornata, arrivederci.